Tra una manciata di anni l'Italia e forse l'Europa non esisteranno più, almeno come le conosciamo ora. D'altronde già oggi l'Italia non è più la stessa così come non lo sono gli italiani. Ne è convinto Pino Aprile che ad Andrea, presso la sala Genius Loci, ha presentato il suo ultimo libro L'Italia è finita e forse è meglio così. Siamo una nazione duale e pertanto destinata al fallimento. Dall'unità d'Italia ad oggi il divario tra settentrione e meridione non ha fatto che allargarsi, spiega Pino Aprile. Non c'è mai stato, a parte l'immediato secondo dopoguerra, un momento in cui la differenza nord-sud sia stata così ampia come adesso. Ora, come spiegano benissimo due grandissimi, gli autori Atemoglu e Robinson del libro Perché le nazioni falliscono, che hanno fatto un'analisi in tutto il mondo, in tutti i periodi della storia. La povertà, specie se in un paese duale, cioè all'interno di uno stesso paese, è frutto di scelte politiche, cioè di una volontà determinata a creare la povertà di una parte. Questa è la questione meridionale. Ora, a causa del dilagare della civiltà informatica, per la quale gli stati nazionali sono un ostacolo da rimuovere, l'Italia, così come è stata laboratorio per la creazione degli stati nazionali un secolo e mezzo fa, oggi è laboratorio per la disgregazione degli stati nazionali. Un libro infuocato che irrompe con forza nel dibattito politico e disegna scrupolosamente gli scenari di un futuro, che non è mai stato così prossimo. Se sei in un mondo che chiamiamo virtuale, in cui non ci sono confini né tempo, non ci sono frontiere né, perché con un click tu sei contemporaneo, di chiunque, ovunque, sul pianeta. Quindi il pianeta si deve adeguare. Cadono le frontiere in Europa, cade il muro di Berlino, la Cina si apre al resto del mondo, eccetera, eccetera. Gli stati nazionali sono un relitto del passato che va rimosso e si sta cominciando dall'Italia. Dobbiamo solo sperare che non avvenga come negli altri periodi in cui si è passati da una civiltà a un'altra, ovvero che almeno il sangue si è risparmiato. A dialogare con l'autore due volti della politica andriese Nino Marmo e Sabino Zinni. Perché dobbiamo regalare tutto questo a una sciagurata gestione di regioni che non rivendicano autonomia? Perché questa sarebbe una cosa buona e giusta, l'autonomia, ma rivendicano a questo punto una spaccatura del paese, una secessione morbida, ma pur sempre secessione.